Ecco, signora trapezista, signora canaglia, non voleva mica le parole di Danza Zain. Ecco, copyright 2003 by Russo Angelo, Milano, www.a-russo.it. Ah, no, il sito non si trova più. Vaporizzato! Lasciamo perdere, tempo 140, introduzione musicale. Se questa vita fa piangere il mondo e te, smettere non cercare, non chiederti il perché, ma forse è meglio sai, rider che viver fa, sì, rider viver fa, e viver rider fa. La guerra è dentro te, tu resta lì a guardar, il corpo tuo che va, là dove sono gli zii. Non farti mai inghenner, la pace è dentro te, a piedi nudi splash, in questa Danza Zain. Musiche e colori, storie e provarbi, ci cadono addosso, bevi la tua parte. Le storie sono zoccole, bellamente debole, che le trasforma in buvole, riempiendole di frottole, modelli come piattole, accuse senza bruscole, metafori con caccole, rime con pillaccole. Senza il filtro della mente, potrei vivere nel presente, senza confronti, tagliando tutti i ponti. Storie invisibili, volubili, delebili, storie imprescindibili, fuori dagli scibili. Storie instabili, come piante flebili, storie mutevoli, come vini amabili. Abili, abili o disabili, sono sempre mobili, storie riballi sulle nostre pelle. Cos'è che spazza via la polvere dagli ingranaggi della fantasia? Non tocca a me rispondere, lo lascio fare a voi. Sceparami lei, signora canaglia, signora, sì, quello che è, insomma. Sì, lei è una canaglia, ecco. Ah, i saluti? Ecco, ciao, mondo. E? Spout! Il mondo. Non lei, lei è una canaglia, ma è una canaglia blu. E proprio a 140, è una specie di scioglurinco. Una volta ce la facevo anch'io, a cantare cose del genere. E adesso, suonare e cantare, adesso si arrenge. Si arrenge? Io, cosa posso fare? Buongiorno. Poi mi dà qualcosa da bere, un po' di netta, eh? Un po' di netta, è un po' di netta, è un po' di netta.